Salve a tutti ragazzi, io sono Vanitsky e quest'oggi mi presento a voi non come youtuber ma come amico che cerca di dare una mano ai suoi compatrioti in difficoltà. Come capirete dal titolo, il mio amico è Dlarz e di recente, neanche 24 ore fa, ha ricevuto delle segnalazioni di terza parte sulla sua guida più recente, Pokémon X. Con precisione le parti dovrebbero essere 1, 2, 5, 6, 7 e 20. Non ne sono sicuro ma nel suo video date trovate tutto quello che serve. Allora, per aiutarlo ho pensato a varie cose negli ultimi minuti possiamo dire, anche se in realtà è qualche ora che ci penso. E sono giunto alla conclusione che non potendo contattare YouTube direttamente perché gentilmente YouTube non concede questo lusso a quelli che non sono dei mega partner o dei mega youtuber in generale. Quindi ho pensato, spammiamo questo video di Save Dlarz e rendiamolo più popolare perché YouTube ovviamente non chiuderà mai un canale con molte visualizzazioni e comunque si ha un buon seguito. Perché dico chiudere? Perché Dlarz, come ogni ragazzo con un canale avrebbe fatto, ha subito inviato delle contro-segnalazioni e purtroppo se queste segnalazioni non vengono accolte rischia la chiusura del canale. Quindi cerchiamo di fare un'azione preventiva. YouTube non chiuderà mai un canale che ha un grosso seguito e Dlarz è comunque sia abbastanza seguito. Se riusciamo a renderlo appena appena un pochino più seguito dovrebbe assicurarsi l'approvazione di YouTube perché ormai funziona soltanto così. Tu ci fai guadagnare, noi ti teniamo, altrimenti sei fuori. È una politica che di sicuro molti conoscerete. Quindi io vi chiedo gentilmente di spammare questo video. Questo qua sarà il mio unico video non monetizzato del canale perché aiuto un amico, non cerco profitto nella sfortuna degli altri. E avendola dotata di licenza Creative Commons, questa campagna, questo video della campagna, dovresti trovare un video, un bottone che vi permette di caricare sul vostro canale senza tempo d'attesa questo video fatto così com'è. Io vi saluto quindi, chiedo il vostro aiuto per aiutare Dlarz e ringrazio Tirannosaurus92 per il disegno che indica la mia versione Ornitorinco che aiuta Dlarz a rialzarsi. Ci si becca, aiutiamo Dlarz a superare anche questo. Il 27 novembre è lontano ma relativamente vicino e dobbiamo dare il massimo. Ciao Dlarz, se mi hai visto sappi che mi devi una birra bastardo. Ciao ragazzi!